Benvenuti o bentornati sul canale Portale Sanità Digitale, sono Gennaro Ricchio. In questo nuovo video vi parlo di WhatsApp Business, la nuova versione del programma di messaggistica più utilizzato al mondo e di come queste nuove funzioni possono ritornare particolarmente utili per il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista ambulatoriale, per tutto ciò che attiene la messaggistica verso DA e verso i propri clienti e pazienti. Questo video non è sponsorizzato, declino ogni responsabilità per la possibile perdita di dati derivante dal non corretto utilizzo dell'applicazione. Sotto nella descrizione del video trovate il link per scaricare il file pdf di questa presentazione, i marchi di terzi citati appartengono ai rispettivi legittimi proprietari. Allora, tutto ciò che è presente sul video precedente, Whatsapp sul computer, presente sul canale Portale Sanità Digitale, vale anche per la versione Business. Cosa offre Whatsapp Business? Prima di tutto è gratuito, consente la messaggistica con utenti che hanno in uso la versione normale, cioè la versione di messaggistica, utilizza la stessa applicazione per Windows di Whatsapp normale, consente l'utilizzo di un numero fisso, a differenza dell'altra versione, quindi questa è la prima funzione in più, è quella di poter utilizzare il numero fisso dello studio per inviare e ricevere messaggi con i pazienti, con i clienti. Comunque per l'utilizzo dell'applicazione è richiesta l'installazione dell'applicazione Whatsapp Business su uno smartphone, uno smartphone anche privo di SIM ma deve essere collegato alla rete wifi. Consente Whatsapp Business, consente di etichettare le conversazioni, dà la possibilità di preparare, di avere una messaggistica automatica, risposte automatiche, impostare risposte rapide, un elenco di risposte rapide da cui poter attingere poi rapidamente, senza doverle digitare ogni volta e poi presentare le opzioni per i contatti. Nel 2020, questo è un dato italiano, nel 2020 l'83% degli italiani tra i 16 e i 64 anni ha dichiarato di usare Whatsapp, quindi è l'applicazione di messaggistica più usata, più diffusa. Nel corso del 2021 dovrebbe essere rilasciata la funzione Whatsapp Pay, che a ogni profilo Whatsapp Business si potrà associare una carta di credito o una carta di debito con cui fare o ricevere pagamenti. Quindi Whatsapp Business è l'applicazione gratuita, su cui al profilo dell'utente può collegare la propria carta di credito e quindi per effettuare o per ricevere dei pagamenti. Allora, questo è il sito web di Whatsapp Business. Whatsapp Business è un'applicazione scaricabile gratuitamente, pensata per i titolari di piccole imprese e ti consente di dare visibilità ai tuoi prodotti e servizi e interagire in modo diretto con i clienti e rispondere alle loro domande durante l'intera esperienza d'acquisto. Consente di creare un catalogo per presentare la tua offerta e uno specialista ambulatoriale può creare un catalogo, l'elenco delle proprie prestazioni specialistiche che consentono poi di creare dei messaggi automatici, organizzare le chat e rispondere più rapidamente ai messaggi. Profilo dell'attività, quindi Whatsapp Business consente di creare una vetrina della propria attività con informazioni utili come indirizzo, descrizione, email e sito web. Quindi lo slogan di Whatsapp Business come abbiamo visto all'inizio è più messaggi meno lavoro, quindi Whatsapp Business consente di dare risposte più rapide, la funzione risposte rapide ti consente di salvare e riutilizzare i messaggi che invidi frequenti per rispondere velocemente alle domande più comuni. Poi i messaggi automatici consente una risposta immediata, imposta un messaggio d'assenza quando non puoi rispondere per far sapere ai tuoi clienti quando li ricontatterai. Puoi anche creare un messaggio di benvenuto per presentare ai clienti la tua attività o gli orari di studio. Allora veniamo quindi dallo smartphone a scaricare Whatsapp Business, fare poi clic su Apri, Whatsapp Business è disponibile sia per Android che per iPhone e per iOS. Una volta completata l'installazione fare clic su Apri, poi accetta e continua, digitare e inserire il proprio numero del cellulare su cui attivare Whatsapp Business, poi fare clic su Avanti, si riceverà un SMS di conferma, una volta ricevuto il SMS di conferma, chiede se si vuole creare un catalogo, fare clic su Inizia, ecco questa è la schermata iniziale, qui la prima cosa va configurata, l'icona sullo smartphone è questa è differente da quella precedente, quindi come vedete W.A. Business, quindi differente dal telefono, dall'icona verde dell'applicazione precedente. Quindi cliccare sui puntini, una volta cliccato sui puntini compare il menu, cliccare su strumenti attività o su impostazioni, si arriva comunque sempre a strumenti attività, perché inizialmente Whatsapp Business va configurato secondo le proprie esigenze. Quindi strumenti e attività, quindi come vedete in strumenti attività è possibile gestire l'indirizzo, gli orari dello studio, eventualmente il proprio sito web, l'email, per chi è interessato può configurare, creare un catalogo delle proprie prestazioni, si può creare un messaggio d'assenza, un messaggio di benvenuto, cioè un risponditore automatico quando lo studio è chiuso. Messaggio di benvenuto, risposte rapide, creare delle etichette su cui individuare rapidamente la tipologia dei clienti. Quindi però andiamo su orari e siti web, quindi cliccare sul profilo dell'attività, poi orari di apertura e poi selezionare gli orari di apertura della tua attività, selezionare aperto durante un orario specifico, perché così facendo successivamente come vedete dà la possibilità per i giorni della settimana di definire gli orari di apertura dello studio. Ovviamente bisogna attivarli su tutti i giorni della settimana se si è aperti e una volta configurati gli orari fate clic su salva. Fatto clic su salva, passiamo avanti, andiamo a configurare il messaggio di assenza, messaggio di assenza, attivarlo, quindi cliccare qui sempre da strumenti attività, cliccare sul messaggio di assenza, attivare questo tipo di funzione e cliccando sulla matita si può cambiare il messaggio che viene inviato automaticamente, si può anche decidere quando inviare orario invio sempre, si può definire l'orario di invio destinatario a tutti i destinatari dei propri contatti. Poi è possibile anche configurare il messaggio di benvenuto, messaggio di benvenuto sempre da strumenti attività, qui è per sé sempre attivare questo tipo di funzione, cliccando sulla matita si può modificare il messaggio di benvenuto. E poi è possibile configurare le risposte rapide, risposte rapide, questa è una funzione molto interessante perché consente di creare proprio una vera e propria tabella, un proprio catalogo di risposte rapide che sono in uso più di frequente, la cosa importante è qui scrivere la risposta e il collegamento rapido, bisogna mettere la slash, slash che è quel simbolo che è presente sopra il tasto numero 7 e poi una parola che identifica questo testo rapido, perché poi quando si andrà a scrivere il testo, se si digita slash in iniziali di questo tipo di messaggio di testo rapido, verrà selezionato rapidamente. Ricordarsi sempre, come abbiamo detto, di fare clic su salva ogni qual volta si apportano delle modifiche in strumenti e attività. Per quanto riguarda la modifica della risposta rapida si può anche inserire delle immagini di risposta. Qui come vedete per esempio sono stati configurati degli orari per lo studio, sabato chiuso, domenica chiuso, come vedete poi gli orari settimanali. Quando viene inviato un messaggio il risponditore automatico, risponde grazie per aver contattato Riccio Gianara, facci sapere come possiamo aiutarti grazie del tuo messaggio. Al momento non siamo disponibili ma risponderemo appena possibile. Adesso andiamo a vedere un'altra funzione interessante di Whatsapp Business che mette a disposizione che è quello di poter configurare il numero di telefono del telefono fisso, quindi inserire il numero del telefono dello studio, quindi abbiamo detto su uno smartphone anche privo di sim ma collegato alla rete wifi, inserire il numero del telefono fisso, fare clic su avanti, poi anziché selezionare re-invia un sms per il numero fisso è fondamentale fare clic su chiamami, riceverete in automatico una chiamata da un risponditore automatico che comunicherà le sei cifre del codice di sblocco. Per questo tipo di configurazione su un numero fisso bisogna nelle autorizzazioni delle app autorizzare l'utilizzo dei contatti. Come abbiamo visto nel video precedente di come usare Whatsapp sul computer è possibile importare e condividere con Whatsapp, quindi anche con Whatsapp Business, tutti i contatti della propria rubrica, tutti i contatti eventualmente dei propri pazienti. Per chi è interessato ad assistenza o alla realizzazione di soluzioni personalizzate puoi inviare un'email con oggetto Whatsapp Business. Io vi ringrazio per l'attenzione.